Il 2022 è appena iniziato, ma la mia TBR, ovvero la lista delle cose da leggere, già è stracolma di libri e di fumetti. Ciao amiche e ciao amici, io sono Luigi, lo sapete, su questo canale io vi racconto tutto quello che acquisto e quello che leggo, dai libri ai fumetti, i manga, insomma tutto quello che mi passa per le mani. Ma come vi ho appena detto, il 2022 è appena iniziato, saranno 6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, ma ho già un mare di cose da leggere e la pila di libri, fumetti, manga inizia già a crescere ancora di più, cresce sempre di più. E quindi voglio provare a fare questa cosa con voi oggi, anche per alleggerirmi un pochettino e scrollarmi di dosso questo peso enorme, e voglio provare a condividere con voi le cose che ho messo in conto di leggere per quest'anno. Senza perderci troppo in chiacchiere, il primo libro che peraltro ho iniziato già a leggere è questo, ovvero La Forza del Bene, di Daniel Goleman. Si tratta di un libro davvero ben scritto, ma questo me lo aspettavo trattandosi di Daniel Goleman, vi ho raccontato l'anno scorso già due libri. Un libro a metà tra la divulgazione scientifica e la narrazione delle vicende, tra virgolette, dei modi di fare, della vita del Dalai Lama. Ma non vi preoccupate che non appena concluderò questo libro vi porterò una recensione, perché ci tengo che anche altre persone possano venirne a conoscenza, perché vi ripeto, come vi ho detto in passato, Daniel Goleman è veramente un autore che merita tantissimo. Giusto per mantenerci in tema di leggerezza, questo. Sì, così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, dipende da come abbiamo imparato al liceo. Una lettura che volevo recuperare da anni, ma veramente da anni, acquistai questo libro tempo fa in edicola a un euro, mi pare. E' rimasto nella mia libreria per troppo tempo e quindi non sono riuscito a leggerlo nel 2021, ma in questo 2022 assolutamente ci voglio provare. L'altro libro che ho messo in conto di leggere per quest'anno, che fa parte di una sacra triade di Yuval Noah Harari, è questo. Ovvero, Homo Deus, breve storia del futuro. Acquistai questo libro insieme a 21 lezioni per il XXI secolo e a Sapiens. Di 21 lezioni per il XXI secolo trovate già un video sul canale, ve lo lascio qui in alto nelle schede e sotto in descrizione. Di Sapiens ci penserò, ci vuole un pochettino. Yuval Noah Harari non ha sicuramente bisogno di presentazioni, è un autore molto difficile da metabolizzare perché questi libri, oltre che ad essere dei mattoni, sono veramente tanto carichi di fatti, di racconti e quindi mi ci vuole un pochettino. Molto probabilmente non è uno dei libri che leggerò subito nella prima parte dell'anno perché ho bisogno di riscaldarmi un pochettino e quindi vedrò se verso la metà anno, aprile, maggio, riuscirò a leggerlo. Però un altro mattone da mettere nella mia TBR. A questo punto però cambiamo totalmente registro perché ci spostiamo nel mondo dei fantasy. E sì, il primo libro che avrei intenzione più che altro di leggere ma molto velocemente è questo, ovvero questa meraviglia qui. Harry Potter e la Pietra Filosofale edizione Minalima. Perché ho intenzione di leggerlo nel 2022, nonostante lo abbia acquistato nel 2021 e abbia già letto Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 2021. Perché a gennaio, a breve, fra una quindicina di giorni, dovrebbe uscire il secondo libro, sempre edito da Salani, ovvero Harry Potter e la Camera dei Segreti. Quindi, siccome ho letto in passato Harry Potter, non ho fatto tantissime riletture negli anni, però ho deciso di recuperarli. Piano piano, forse rileggere questa edizione potrebbe essere quel quid in più, quell'elemento in più che mi spingerebbe, che poi potrebbe spingermi a leggere questi libri. Ci proverò, non lo so anche perché sono due libri, la Pietra Filosofale e la Camera dei Segreti, anche se si leggono molto velocemente, ma ci proverò. Sempre per rimanere in tema di fantasy, l'altro libro che ho deciso di leggere è questo, ovvero Il Signore degli Anelli, il terzo libro, Il Ritorno del Re. Io ho già letto La Compagnia dell'Anello e Le Due Torri, l'ho fatto nel 2021 perché non avevo mai letto Il Signore degli Anelli, me ne sono innamorato nonostante la nuova traduzione, nonostante molte cose della nuova traduzione mi abbiano fatto storcere il naso. Cioè, parliamoci chiaro, Aragorn, Il Forestale, non si può sentire. Ma vabbè, questo è argomento di un altro video, poi ci racconteremo un po' di cose. Non ho volutamente letto tutti e tre i libri per evitare di sovraccaricarmi, ma questo libro quest'anno lo devo assolutamente leggere, anche perché me ne sono innamorato e quindi devo farlo. Basta con i libri per un attimo perché passiamo a dei recuperi che fanno parte del macromondo dei fumetti, manga, fumetti, eccetera, eccetera, che ho intenzione di fare per quest'anno. Il primissimo recupero riguarda One Piece. Vi avevo raccontato nel video degli acquisti del trimestre, ottobre, novembre, dicembre, di aver recuperato tutto One Piece, che peraltro ho letto in passato, ma a questo punto voglio recuperarlo. Come vedete mi sono fermato al volume 16. Avevo iniziato a leggere questi manga, ne stavo leggendo all'incirca uno al giorno, ma poi sono arrivate le festività natalizie, le festività di fine e inizio anno, quindi ho iniziato a rallentare un pochettino anche perché tra i millemila impegni avevo deciso di staccare un attimino con la lettura. Credo che continuerò con una lettura al giorno, quindi 90 numeri, all'incirca una quindicina li ho letti, me ne mancano all'incirca 75, quindi spero in un paio di mesi di rimettermi finalmente in pari con la pubblicazione della serie bianca. Perché ho scelto la serie bianca anziché la serie blu? Forse ci farò un video dedicato, ma il primissimo motivo, quello più banale, è perché mi piacevano di più le costine, anche se in realtà ci sono poi anche altri elementi dei quali poi parliamo piano piano in futuro. Secondo recupero per quanto riguarda il mondo dei fumetti è questa saga qui, ovvero la saga di Batman, la Death Metal, che io ho acquistato nella variante, nella variant con le band. In questo caso vediamo il primo numero con i Megadeth. Si tratta semplicemente di 7 volumi, quindi veramente di una serata da dedicare. Ho aspettato perché ho voluto prima recuperarli tutti e poi li leggerò, quindi quasi sicuramente dopo averli recuperati ve li racconterò qui sul canale. L'ultimo recupero da fare, almeno per questa prima parte dell'anno, riguarda l'attacco dei giganti. Vi avevo raccontato di aver acquistato questo terzo cofanetto finalmente e quindi devo leggere questi 5 numeri, dal numero 11 al numero 15. Io sto seguendo la storia leggendo questi fumetti, quindi sono veramente un novizio, nonostante conosca molto bene l'attacco dei giganti, li sto leggendo mano mano. Ovviamente poi nel corso dell'anno, quando usciranno i diversi cofanetti, quasi sicuramente li acquisterò e li leggerò mano mano, perché sto seguendo la serializzazione della storia. E proprio a questo proposito vi dico un'altra cosa. In questa TBR io ho volutamente escluso tutti quei fumetti, quei manga, dei quali sto seguendo la pubblicazione di settimana in settimana o di due settimane in due settimane. Per esempio Naruto, oppure Boruto, Demon Slayer, Shaman King, Detective Conan, Full Metal Alchemist. Si tratta di manga, dei quali sto seguendo la pubblicazione di volta in volta, quindi si tratta in realtà di letture, tra virgolette quasi abituali e mi sembrava quasi voler vincere facile inserendoli all'interno di questa TBR. Arriviamo alla fine di questa TBR con gli ultimi tre libri che ho intenzione di leggere. Ci proverò, non lo so, visti i mille e mille impegni, due canali YouTube, il lavoro, la divulgazione, eccetera, eccetera. Ma partiamo sicuramente da questo volume di Sherlock Holmes. Se vi ricordate vi avevo raccontato di aver acquistato questo volume perché mi ero innamorato dell'edizione e del perché io non avessi mai letto Sherlock Holmes. Quindi proverò ad avvicinarmi a questo mondo, proverò a capirci qualcosina in più. Avevo letto giusto qualcosina durante gli anni del liceo, ma effettivamente nulla di che. Quindi una volta che avrò letto questo libro proverò a raccontarvi qualcosa. Lo so, ogni volta dico che proverò a raccontarvi un sacco di cose, vedremo cosa ne verrà fuori. Secondo libro di questa mini lista finale, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Un libro, vi ripeto, come vi avevo detto quando ve lo avevo presentato tra gli acquisti, del quale ho sentito tantissimo parlare. Qualcosina forse già ho acchiappato durante gli anni. Mi dicono che si tratta di una lettura sicuramente non facile, sicuramente impegnativa, ma una lettura da fare. Quindi ci proverò, ci proverò. Chiudiamo in bellezza questa TBR con un libro del quale si è parlato tantissimo negli anni e che io, dico la verità, a volte mi vergogno a non aver letto, ovvero Il Cacciatore di Aquiloni. Tutti mi hanno raccontato di un libro intenso. Questo forse è l'aggettivo che più si addice a questo libro. Ho intenzione di leggerlo e soprattutto ho intenzione di farlo in poco tempo, perché se effettivamente si tratta di un libro, appunto, intenso, vorrei godermi appieno la lettura. Quindi dovrò essere bravo a trovare un momento durante l'anno, durante l'anno in cui dedicarmi a fondo a questa lettura, perché sinceramente non vorrei dedicarci più di 3-4 giorni, ma impegni permettendo staremo a vedere. Niente, siamo arrivati alla fine di questo video. Come avete visto, io mi sono già sovraccaricato di libri. Sì, sono sincero, lo so, l'ho capito, mi sono sovraccaricato di libri, ma gennaio è così. Gennaio è l'inizio, è quel periodo dell'anno in cui noi partiamo con le migliori intenzioni. Vedremo. Ci proverò a leggere tutte queste cose, probabilmente forse alla fine dell'anno faremo un resoconto e vedremo un attimino se sarò stato bravo a leggere tutte queste cose o addirittura sarò stato più bravo a leggere più cose. Basta, io mi fermo, vi ho raccontato già un sacco di cose. Se mi avete seguito fino a questo punto, grazie. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, sapete tutto quello che potete fare. Noi ci rivediamo al prossimo episodio e restate connessi perché veramente ho un mare di cose da raccontarvi quest'anno. Sì, ci proverò. Non lo so se ci riuscirò, ma ci proverò. Ve lo prometto. Noi ci riuscirò, ma ci riuscirò.